Amiche e amici, ho il piacere di avere di nuovo qui accanto a me il dottor Giampaolo Celani, Presidente Associazione Italiana Persone Down, sezione di Roma. Bentornato su HTO. Grazie di essere venuta. Grazie, noi non mancheremo mai a questi appuntamenti, ormai siamo una grande famiglia. Dottor Celani, oggi finalmente un appuntamento e un'iniziativa che inizia ad avere finalmente il suo corso. Sì, la cosa bella che ho detto prima in conferenza stampa è che un'associazione di persone con disabilità, di familiari con disabilità, nel nostro caso la Sindome di Down, che promuoviamo insieme al Consorzio Sintesi, dove i nostri ragazzi, le nostre persone lavorano, promuoviamo un'iniziativa che si apra in modo analogo in un'altra città. E io quello che ho voluto sottolineare è Palermo, che insomma come luoghi di lavoro purtroppo ne ha pochi, poche opportunità e non so quanto ci sia tutta questa opportunità per le persone con disabilità. So già che questa notizia che a Palermo si aprirà una nuova locanda ha fatto sì che delle associazioni locali che non sono dell'IPT sono riuscite già a trovare persone che non avevano nessuna motivazione per uscire di casa e quindi persone che non soce, Down, che però si stanno muovendo con l'idea che ci sia questa opportunità. E questo per noi è una notizia fantastica e quindi siamo molto contenti che da Roma, partecipando a quelle scene che sono state presentate oggi, sia un'occasione per aiutare altri. Ecco, questo invece di stare sempre a aspettare che qualcuno aiuta noi, noi aiutiamo altri. Io adesso voglio fare un pochino l'avvocato del diavolo, quindi come giustamente Vincenzo Cuoco disse un po' di anni fa, parecchi anni fa c'è sempre stata la teoria dei due popoli, abbiamo quello a favore e quello contro. Qualcuno, qualche gentiluomo o qualche gentildonna potrebbe dire ma già siamo senza lavoro, perché dare del lavoro a dei disabili? Lei cosa vuole rispondere appunto a questi gentiluomini e gentildonne? Nell'ambito, se parliamo della ristorazione o parliamo in generale dell'accoglienza, in senso più ampio, le opportunità non è che sono limitate, ce ne sono per tutti. È vero però che se tu coinvolgi e dai motivazione a persone che hanno studiato, perché le scuole alberghiere in particolare, ma anche altre scuole di accoglienza, tipiche del nostro paese tra l'altro, vedano coinvolti in vero e proprio lavoro delle persone con disabilità, anche per poche ore, visti i contratti più semplici che si possono ottenere anche nel numero di ore di impegno, probabilmente sono anche quelle una forma di sostegno della collettività, perché quelle persone nessuno le deve aiutare, quelle persone sono loro che danno una mano a tutti noi e quindi in questo senso siamo di minor peso. In fondo è una forma di investimento anche quella, cioè quella di far sì che queste persone si rendano utili per quel che possono, l'importante è dargli regole e credere in loro. L'assessore Frigini ha parlato di fiducia, dare fiducia. Se a loro si dà fiducia come chiunque, le persone sentono quando c'è fiducia in loro e rispondono. L'importante è questo, cioè che si crede in questa cosa. Certamente potrebbero esserci più camerieri, più chef normali, diciamo così, però c'è anche la possibilità sul mercato di avere gli uni e avere gli altri. Le occasioni, le opportunità ci sono. In fondo questa locanda del Girasoli, la storia, è una storia di un locale abbandonato. Adesso una famiglia ha rinunciato al loro posto di lavoro, lavoravo dove lavoro io nella mia azienda, hanno rinunciato. Con il trattamento di fine rapporto hanno pensato di investire in una locanda per far lavorare il proprio figlio e il diplomato in ragioneria. Che vale la distinzione di Down? Hanno chiesto aiuto a nessuno, hanno aperto un locale e ci hanno provato. Dopo tanti anni è stato faticoso, adesso c'è il consorzio sintesi, hanno creduto in quel sogno. Hanno forse rubato a qualcuno qualcosa? No, questo vorrei rispondere alla gente che giustamente potrebbe risentirmi. Oltretutto a me verrebbe anche da chiedere, ma chi sono i disabili oggi e chi sono quelli normali oggi? Cioè oggi ognuno di noi secondo me ha all'interno una propria disabilità, più o meno manifesta. Sì, questo sicuramente sì. È vero pure che c'è più chi ha delle maggiori opportunità di altri però, nel senso che credere in una persona che ha una disabilità di tipo intellettivo non è così semplice, perché se poi queste persone non rispondono, noi siamo abituati a una comunicazione verbale, se le persone rispondono anche in modo strano, ridono quando magari fuori posto, non si conoscono perché sono delle malattie rare. È chiaro che c'è una resistenza all'accettarlo. Allora questo fatto di dire che tutti siamo un po' disabili è vero. Io ho tre figli, uno ha la sindrome di Down, uno è mancina, la gemella, e uno è mancino e la gemella è rossa. Sono tre diversità diverse, va bene? Perché chi è rosso ha delle caratteristiche e chi è mancino in un mondo di destri è un disabile. Allora che vogliamo dire? Ognuno ha le proprie particolarità, tutto quello che le persone possono mettere a disposizione, degli altri, è buono, è positivo. Nel caso dei disabili intellettivi la vera questione è dare una motivazione, le persone che hanno una motivazione rendono di più. In un istituto, restare in un istituto come tutti conoscono i mongoloidi, cioè quelli con la sindrome di Down, si dicevamo mongoloidi, beh negli istituti sono un peso. Sono solo soldi per degli infermieri che li devono tenere là e li tengono, ne conosco tanti. Pensare che invece ci sta uno che sta accanto al cuoco e prepara una pizza e prepara tutto quello che serve per una pizza, lavora, fa il suo lavoro tranquillo. O pensare a quella che pulisce le incubatrici in un ospedale? Tanto lo dovrebbe fare qualcuno, lo fa lei invece di un altro, ma perché? E quindi questo però li fa tirare fuori di casa, non sono soldi che deve tirare fuori la collettività, la famiglia è contenta, ma che vogliamo di più? Poi loro hanno voglia di lavorare, hanno voglia di essere utili per la società. Sì, mi hanno raccontato che c'è l'esperienza di chi dice vuole lavorare ancora di più di quelli degli altri. Bisogna dirgli, no, guarda, quando c'è da mangiare alla pausa pranzo devi uscire, non puoi mangiare nello stesso posto dove lavori. Ecco, per dire, questa è l'esperienza. Voglio solo ricordare un esempio che mi ha colpito e glielo ho voluto proprio scrivere. Una persona era stato direttore generale di una delle più grandi catene senza fare la pubblicità, ma quella della ristorazione veloce, moderna, con i panini, con l'hot dog, quella. Quello credette nell'inserimento delle persone down. Adesso praticamente ovunque ci sono i nostri. Ormai è nel panorama. Noi in Italia non siamo abituati a questo panorama, in altri paesi il panorama è più comune. Ecco, sarebbe tutto molto più civile vedere che circolano tutti. Poi a tutti gli si dà l'opportunità e poi sarà un down più bravo di un altro, assumi quello più bravo e quello non bravo se non si impegna è un problema suo, esattamente come gli altri. Quindi sono persone. Infatti la mia è un'associazione per le persone down, delle persone down, non un'associazione caritatevole, compassionevole nei confronti dei down. Siamo un'associazione delle persone down. E allora per tutti i nostri amici, non solo qui di HTO, ma in generale, che non hanno ancora quelle conoscenze adatte, atte a poter dire, insomma, a poter parlare. Quindi per cercare di renderli un pochino più edotti su questo argomento, come possono fare per contattarla e anche magari per sapere come acquistare il calendario? Allora, la sezione di Roma si trova in via Ferruccio De Calboli, alla zona di Piazza Mazzini, attraverso via Sabotino. Abbiamo un sito www.alpd-roma.it, abbiamo un telefono 06-89-01-6451 a cui rivolgersi. Abbiamo tantissimi calendari, ormai li possiamo anche diffondere, anzi se ci aiutate a diffondere facciamo cultura anche a pochi euro, cioè non ci interessa guadagnare. e sulla sindrome di Down lì danno delle grandi possibili spiegazioni e poi è facile incontrarci alla locanda dei girasoli, a mangiare una pizza fa sempre bene. Grazie. Grazie.